L'Italia dei sindaci proseguono a Palazzo Reale di Napoli gli incontri promossi da Casa Corriere per festeggiare il dorso locale del quotidiano di Via Solferino. I lavori moderati dal vice direttore Venanzio Postiglione sono stati l'occasione per un confronto soprattutto sui temi dell'autonomia differenziata. Non solo il divario nord-sud, la riforma dovrà fare i conti anche con le diverse sensibilità istituzionali. Il sitaco di Napoli Gaetano Manfredi ha messo in guardia dal rischio di un nuovo centralismo regionale che si sostituisca a quello statale. Senza affrontare con chiarezza quelli che sono i problemi alla fine possiamo fare un grande danno al paese perché dobbiamo ricordare che il regionalismo ha avuto dei lati positivi però se noi facciamo un'analisi dopo alcuni anni ha avuto il covid un esempio ha avuto anche degli aspetti non sicuramente edificanti per il nostro paese e i nostri cittadini. Sull'autonomia intanto resta profondo il solco tra le regioni del sud ed il governo è un'attrazione leghista. A margine di un evento a Salerno il vicepresidente della campagna Fulvio Bonavitacola preannuncia una ferma opposizione a riforme che possano penalizzare i cittadini meridionali. Noi guardiamo con particolare attenzione a tutte le cose che servono. Se questa cosa serve per fare un po' di spot elettorali e a questo punto post-elettorali per le regioni del nord non ci interessa. Se invece è una sfida seria che parte dal riconoscimento che tutti i cittadini italiani hanno diritto a livelli essenziali di prestazione, lo prevede la Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.